C'è un problema di fare questa salita Che dici? eh ma questa è terribile ma che ti dici dico tanto male veramente trovare dico perché chissà già è terribile se quella è terribilissima ce ne possiamo tornare indietro a salire diceva tino conviene che ora a tornare ci prendiamo sempre questa ma chi sta a salire come si fa mamma mia la testa sotto mi sono trovato o Grazie a tutti. Grazie a tutti.